La parola di Dio ci mette in guardia dal pericolo di trovarci ad amare il mondo e crea una linea molto marcata, precisa da dividere tutto ciò che è nel mondo da ciò che invece è in Cristo e non possiamo esservi al centro o con un piede di qua e un piede di là. Grande è la via che mena alla perdizione e sono molti quelli che la percorrono. Noi ci trovavamo proprio in questo fiume, eravamo trasportati da cose che procuravano solo grandi amarezze, grandi dolori, ma per grazia di Dio qualcuno ha lasciato la gloria e gli ha permesso che noi ricevessimo una solidità e qui si sta parlando di una solidità eterna. Il mondo passa e passa con la sua concupiscenza, questo è il mondo, ha un principe ed è Satana ed è il diavolo e tutto ciò che il mondo cerca di fornirci può essere anche qualcosa che appaga i desideri della carne e quindi in realtà peccato, ma tutto è effimero, tutto passa. Da quale parte del confine ti trovi? Cerchi di soddisfare la tua vita, la tua carne? Cerchi di dare un senso ai tuoi giorni cercando in qualche modo di soddisfare solo questo aspetto, la carne, i tuoi desideri? Hanno un riscontro eterno? O ti rendi conto che tutti i desideri che tu rincorri sono in realtà effimeri, finiranno. Egli invece è venuto per salvare ciò che era perduto, Egli invece è venuto per portarci in una realtà eterna, non avevamo speranza e anche tu, anima cara, che stai conducendo la tua vita secondo i tuoi propositi, i tuoi proponimenti, ma la parola di Dio in questa mattina ti sta illuminando e ti sta dicendo qual è la fine di questo percorso, un fiume impetuoso che ti trasporta insieme ad altri, ma qual è la fine, qual è la tua scelta, dove vuoi stare? La parola di Dio è molto chiara, o ami il mondo o ami Gesù, il Signore, il tuo Dio. Guardate, si parla sempre di chi fa la volontà di Dio, non di chi conosce la volontà di Dio, perché non è solo importante conoscere quello che Dio vuole che noi facciamo, ma è necessario che noi anche per questo preghiamo, ci troviamo a fare la volontà di Dio. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno e io voglio adoperarmi per ciò che rimane in eterno e quindi voglio fare la volontà di Dio. Il Signore ci chiama a fare la sua volontà e quindi a vincere il male con il bene. Grazie a tutti.